Da marzo riprende il progetto studiato per diffondere la cultura del defibrillatore nelle scuole primarie di Piacenza e provincia, firmato da Coprelior, Progetto Vita Ragazzi e patrocinato dal Comune. I volontari di Progetto Vita andranno nelle scuole per insegnare ai bambini le basi del primo soccorso e l'uso del defibrillatore. Alcuni atleti del Coprelior parteciperanno agli incontri scolastici ed è prevista una promozione dedicata agli studenti che potranno assistere gratis alle partite di pallavolo. È un progetto importantissimo perché cresce la sensibilizzazione nei bambini che si può fare qualcosa anche in caso d'arresto cardiaco. Il patrocino del Comune di Piacenza è importante perché si entra anche con un marchio in più ma Coprelior soprattutto finanza questo tipo di addestramento abbiamo fatto circa una cinquantina di classi e dall'inizio del progetto sono 2000 bambini che abbiamo addestrato. Siamo a metà strada del progetto triennale se non ricordo male che abbiamo messo in piede quindi per noi è stata una soddisfazione e una grande opportunità quindi noi nelle scuole ci siamo già, nello sport ci siamo già mancava questa opportunità per far conoscere questo meraviglioso progetto e quindi andiamo avanti insieme che andiamo avanti bene.